Un vento a trenta gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro il campanile a tratti come grafiche di mitra disintegrava i comuli di neve e intorno ai fuochi delle guardie rosse che scendi per scacciare i lupi e i vecchi e i corosari e intorno ai fuochi delle guardie rosse che scendi per scacciare i lupi e i vecchi e i corosari Sveduti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finisse ma se uscissero le donne Poi guardavamo con le facce assenti la grazia naturale di Mijinsky E poi di lui si lavorò perdutamente il suo impresario e dei bandetti russi L'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre Un giorno sulla prospettiva Mijinsky Per caso vi incontrai Igor Stravinsky E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione E studiavamo chiusi in una stanza le luci e fioca di candele e lampade a petrolio E quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire E il mio maestro mi insegnò come è difficile Grazie a tutti.